Benvenuto, ovviamente queste gare insomma danno indicazioni relative però quello che mi preme sottolineare se vuoi mi puoi smentire che anche voi che siete arrivati proprio all'ultimo momento vi siete inseriti, parlo di gruppo e quindi si sta creando già un bel gruppo, che ne dici? Sei d'accordo? Il gruppo è come ho detto prima è un grandissimo gruppo, sono tutti ragazzi bravi che ti fanno subito sentire a casa, quindi ci siamo inseriti bene sia io che Michele che Kevin e quindi siamo contenti e te l'ho detto siamo convinti che possiamo fare grandi cose. Il risultato conta poco anche perché dopo il ritiro, dopo una preparazione così intensa è secondario parlare di risultato però come ho detto prima secondo me questa squadra ha proprio come la sua caratteristica principale il gruppo perché ognuno corre per l'altro, ognuno si aiuta col compagno quindi penso che questa sia la nostra caratteristica principale oltre che alle doti tecniche che secondo me sono alte perché siamo una squadra giovane ma con tanta voglia di fare, tanta grinta e secondo me con doti tecniche anche notevoli. Come ogni anno in cui si cambia squadra trovare le dinamiche in campo non è semplice all'inizio anche perché sono due giorni, però il mister ci fa lavorare molto sulla fase offensiva, sui movimenti d'attacco, sui movimenti di difesa, quindi fasi di non possesso, fasi di possesso, transazioni offensive, difensive quindi sappiamo quello che fare quando andiamo in campo, questo assolutamente. È ovvio che ci vorrà un po' di tempo per entrare nei meccanismi ma come ogni volta in cui si cambia squadra penso sia normale.